Caro amico cacciatore, vuoi diventare uno di noi? Raccontaci la tua storia con un video di 5 minuti e partecipa al concorso Diventa uno di noi. Manda i tuoi video alla redazione di Caccia e Pesca entro il 30 di novembre. A questo proposito desidero dare a tutti due brevi consigli, uno di tipo editoriale, autorale. Inventatevi la vostra storia, scrivetevela. Dopo, quando l'avete bene in mente, coprite con le immagini quello che è il vostro racconto. In questa maniera riuscirete a farci emozionare, a trasferirci tutta la vostra passione. Un altro piccolo suggerimento tecnico, la telecamera. Usatela in maniera più stabile possibile. È la scena che si muove davanti a voi e non voi che correte con la telecamera incontro alla scena. Più la telecamera sarà ferma, più le vostre immagini saranno stabili e gradevoli. Lo zoom. Non usatelo. Tecnicamente è un aggiustamento di camera. Quindi lasciate perdere. Non usate mai lo zoom. Fate delle belle immagini. Campo corto o campo lungo. Guardate i film. Guardate come sono raccolte le immagini. Guardateli con occhio diverso. E allora forse riuscirete a capire come girare le vostre immagini per diventare uno di noi. E allora che dirvi a questo punto? In bocca al lupo a tutti e diventano di noi. In bocca al lupo a tutti e diventano di noi. Noi 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 Ma